Allora, io sono il presidente, e prima di spiegare al mio compagno che parliamo del schemi candido, dobbiamo capire che cos'è il santi, e dobbiamo capire che cos'è il rappresentante. Cioè, molti di voi si stanno capitando perché secondo voi il rappresentante significa verbietà di fare tutti noi, non possiamo fare tutti, bisogna fare l'azienda leggere alla vostra, di figures, e poi ci sono i rappresentanti è il rappresentante si è il givellatore di energia, questa verrà, stiamo capitando il di centro non sia come si è imp documentato, muotemaposita in corso di guitarra.. Voi mi hanno significato che l'anno scorso l'avete riuscito a rinforzare il vostro e poi non è vero, perché non è vero, perché non è vero, perché avevamo sconocciato E' che i giochi li vengono in giro, ma avevamo sconocciato le platte perché i mui erano forchi, che vengono in giro stiamo decantando, d'ora in boio ogni volta che si vede lo faccio vedere al professore La bella che stava rappanto e' quel stesso modo e' detto di non fare niente, lo avevamo proprio facebook facebook anche un negozio scappato, l'hai visto il sito? con il mio bene, bene, bravo guarda se l'ho andato a Marco quest'anno sta a ferrare tenilo tu è spagnolo ogni cosa la 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 la